Ciao Buongiorno Faccio Vaccinato del Mauriziano, com'è andata? Bene, tutto a posto Non ha fatto male, sono liberissimi Neanche un minimo bruciore, niente? Niente, niente. Sì, mi sento tranquillo, ma anche prima, avendo tutto il necessario per potermi proteggere, ero abbastanza tranquillo nell'affrontare la pandemia e tutto. Mi sento bene innanzitutto, mi sento una privilegiata perché posso essere più tranquilla adesso sul lavoro e invito tutti, tutti gli operatori sanitari a fare il vaccino, la considero una responsabilità professionale di tutte le persone che lavorano in ospedale. Bellissimo, sono contenta e mi sento anche una privilegiata e invito tutti gli operatori sanitari a veramente vaccinarsi perché è un atto di responsabilità comunque verso noi stessi, verso le nostre famiglie e verso i pazienti.